L'ospedale di Oppido è una struttura che serve tantissimo a questa fascia preaspromontana perché è l'unico presidio che può dare una risposta concreta in termini di salute. Peraltro la struttura è efficiente, ha tutti i requisiti per poter funzionare e riaprire anche dei reparti, altro che chiudere. E poi siamo in una zona dove a livello di viabilità siamo messi malissimo, pertanto se una persona si sente male in questi paesi che sono vicini a Oppido e a Mertina è chiaro che se hanno un ospedale proprio vicino si salveranno, se invece dovranno percorrere chilometri e chilometri di strada per andare a Polistena o a Reggio rischiano di morire per mancanza di tempo. È una zona questa che comunque è fortemente disagiata, pertanto è necessario che ci sia un presidio di sanità. L'ospedale di Oppido, che peraltro era stato individuato come ospedale di montagna, non è mai stato valorizzato come tale, anzi negli anni tutte le varie amministrazioni che sono succedute da un punto di vista sia dell'Asp 5 che della Regione non l'hanno mai messo al centro della loro agenda. Noi pretendiamo che l'ospedale di Oppido venga considerato centrale per quanto riguarda anche gli investimenti che dovranno andare a fare in termini di sanità, perché è un ospedale che comunque rappresenta un vasto territorio, c'è una popolazione di almeno 50.000 abitanti che potrebbe comunque rivolgersi, e che comunque questa popolazione è disorientata se questo presidio viene chiuso. E allora abbiamo bisogno che venga implementato, che vengano garantiti dei servizi e che comunque venga data una risposta a tutti i cittadini che hanno necessariamente bisogno di questo presidio che senza del quale avranno grossissime difficoltà per avere garanzie alla loro salute. Non solo l'ospedale, ma lei parlava prima di strade, strade impercorribili per raggiungere il primo presidio che sarebbe Polistero. Ma qui siamo abbandonati, le strade sono impercorribili, gli ospedali li chiudono, cioè è chiaro le persone non hanno alcuna possibilità di continuare a vivere in questo territorio, ma noi non vogliamo emigrare e andare tutti quanti via, noi pretendiamo che la nostra terra venga valorizzata, ma è normale che se chiudi, non sistemi le strade e che comunque non dai una prospettiva per le persone di questo territorio, ognuno si sente disorientato e la cosa più semplice che si pensa di fare è quella di andare via. Ma noi vogliamo che la gente ritorni in questo territorio, non che vada via. E quindi pretendiamo che vengano considerate queste strutture centrali rispetto ai loro piani di investimento, che in questo periodo ne stanno facendo tanti, ma che mi sembra che nella loro agenda l'ospedale di Oppido non rientri. Allora io pretendo come amministratore di questo territorio che venga messo al centro dell'agenda sia regionale che dell'Aspe 5 la struttura dell'ospedale di Oppido e che venga valorizzata, altro che chiusa.